Continuiamo allora con Mattina 9, adesso cambiamo argomento, parliamo di cinema, quello di qualità perché abbiamo ancora negli occhi il successo delle conquiste dei David di Donatello, arrivate per merito del nostro territorio, che è un po' stato il protagonista di alcune pellicole che hanno vinto, ma anche i cantanti, i musicisti che abbiamo ospitato proprio qui in studio a Mattina 9. Ebbene il cinema partenopeo se ne fa carico di questo successo e crea un festival, America-Napoli, una conferenza show che ci sarà al PAN il prossimo mercoledì, che appunto celebra un po' tesse le lodi del cinema che parte da Napoli e conquista il mondo. Ne parliamo con Francesco Carignani che è qui accomodato a Alsa 8 e Mattina 9, buongiorno Francesco, e poi Carolina Giancotti, che sono i promotori responsabili di questo evento che fa parlare di Napoli anche e soprattutto dal punto di vista audiovisivo, cinematografico. Allora, è un evento che parla di Napoli, del rapporto di Napoli con l'America e come gli americani hanno visto e hanno raccontato Napoli e viceversa, con un focus ovviamente particolare sui nostri attori, Troisi, Totò. Non a caso verrà anche il nipote di Totò alla nostra rappresentazione. Il curatore di questa iniziativa, oltre noi e all'America Study Center, è Luca Martera, che è un bravissimo documentarista e mass-mediologo che ha lavorato con Minoli, con Dricci. E faremo un excursus sul cinema, su come il cinema ha parlato di Napoli. Tante storie che in realtà noi napoletani neppure conosciamo, che coinvolgono i napoletani e del loro rapporto con l'America e quindi sarà un modo per far conoscere tanti aneddoti al pubblico. Fra questi per esempio c'è la storia di Mario Merola che andò a visitare la Casa Bianca al tempo del presidente Gerald Ford, oppure che l'eroina di Flashdance, Jennifer Bills, in realtà era innamorata pazza di Massimo Troisi. Tutte innamorate pazze di Massimo Troisi. È importante avere ancora questo collegamento e oggi soprattutto c'è ancora il fascino del clima napoletano da un punto di vista internazionale, America e non solo ovviamente. Assolutamente, da un punto di vista internazionale in generale ma soprattutto con gli Stati Uniti. È un rapporto particolarissimo, noi abbiamo scelto di narrare attraverso il cinema, però insomma è un rapporto che dura da tantissimo. Noi cominceremo da Passione che è un film un po' emblema di questo rapporto tra Stati Uniti e Italia con George Turturro, che pur essendo di origine pugliese racconta, innamorato folle di Napoli, racconta Napoli agli americani. Per andare poi a fare un grandissimo salto indietro, parlare del cinema delle origini con i fratelli Lumière che riprendevano questa città meravigliosa che mostravano in giro per il mondo. Mostravano agli stranieri ma soprattutto mostravano ai tanti migranti in America che volevano rivedere casa. Partiremo da questo lungo excursus per fare un po' una carrellata di quello che è stato il cinema napoletano e americano che ha parlato di Napoli fino ad arrivare più o meno ai giorni nostri. Attraverso anche i suoi protagonisti perché non ci dimentichiamo che Napoli è una grande cornice scelta, penso a Napoli velata per esempio, scelta per alcune pellicole di grande successo riscosso quest'anno. Ma soprattutto una fucina di talenti perché ormai siamo premiati all'estero proprio per la nostra consapevolezza del mezzo. Perché penso ai registi, penso agli attori, penso a tutti quegli operatori del cinema che si distinguono anche ad Hollywood. Assolutamente, c'è molta attenzione in questo momento e per tantissimi protagonisti che conosciamo ci sono altri molto meno noti che lavorano a livello tecnico a Hollywood e sono dei nomi molto affermati. Purtroppo non li conosciamo tutti, conosciamo solo quelli più famosi in questo momento. Però in questo momento è un momento d'oro per il cinema italiano, è un momento d'oro ancora per Napoli credo perché notizia di pochi giorni che Leonardo Di Capri, attore di origine italiana, gira in questo momento un film italo-americano, la storia di Joe Petrosino, questo immigrato americano di origine napoletana che è famosissimo per aver fatto la guerra alla mafia locale lì. Per cui una figura emblematica. Questa unione insomma Napoli-America continua, lei ha ricontrato dei modi differenti però da parte di artisti, di registi italiani anche, di raccontare la nostra città e magari muovere qualche critica, non so. Ma più che critica diciamo molto spesso soprattutto il cinema estero rappresenta Napoli con alcuni stereotipi, spesso anche negativi. Ecco noi faremo anche una carrellata di questi stereotipi negativi e positivi. Napoli non è solo ovviamente Camorra, poca voglia di lavorare, tutt'altro. Napoli è una città piena di cultura con un rapporto invece antico e molto speciale con gli Stati Uniti che parte dal 1796 se non ricordo male perché qui c'è la prima ambasciata americana ed era la settima più importante al mondo. Quindi insomma un rapporto importante. E allora prossimo mercoledì presso il PAN conferenza show a proposito di America-Napoli una grande possibilità per riscoprire le nostre origini cinematografiche ma direi a questo punto anche culturali. Culturali. No, questo passaggio tra Stati Uniti e Napoli che sigla un successo contemporaneo rappresentato dai grandi registi, attori e pellicole che vengono ogni anno premiate. Grazie a Francesco Carignani e a Carolina Giancotti per essere stata in nostra compagnia. Pubblicità poi di nuovo insieme con Mattina 9.